Oggi la scuola si è fermata, migliaia di studenti in tutta Italia sono scesi in piazza aderendo allo sciopero nazionale indetto dall'Unione degli Studenti. Anche alla Spezia sono stati molti i manifestanti, i ragazzi hanno sfilato per le vie del centro sotto lo slogan Vogliamo Potere. Sciopero nazionale degli studenti, anche Spezia partecipa, tanti ragazzi hanno sfilato per le vie del centro sotto lo slogan Vogliamo Potere. Che cosa significa? No, Vogliamo Potere significa che gli studenti vogliono avere una parola in quella che è la scuola, in quanto loro sono i primi a frequentare quegli spazi. Come abbiamo detto, vogliamo che le nostre scuole siano sicure, vogliamo avere anche scelta in quello che è l'organizzazione delle scuole. Vogliamo una scuola che ci rispetti, oltre che come studenti, come ragazzi. Una scuola transfeminista e una scuola che non ci dia in mano alle fabbriche di armi, ma che sia indipendente dalla militarizzazione. Tra i tanti temi sollevati dalla manifestazione, anche la situazione internazionale, con particolare riferimento ai conflitti armati e alle guerre. Tra i tanti temi sollevati dalla manifestazione, anche la situazione internazionale, con particolare riferimento alle guerre. Esattamente. Infatti noi crediamo che intanto la guerra non capiti per caso. Infatti c'è tutto quanto un sistema che ci guadagna effettivamente, che è quello della produzione e vendita di armi. Anche nella nostra città lo sappiamo bene e come studenti di UDS, che è appunto Unione degli Studenti, ci opponiamo in quanto studenti, in quanto parte attiva della società. Non solo appunto come persone che stanno nelle classi, ma come persone giovani e cittadini giovani, che vogliono agire verso anche una direzione di pace. In quanto la pace non è solamente una parola, una situazione, ma è un percorso, secondo noi. E questo parte sicuramente da una consapevolezza da parte di tutte le parti della popolazione, compresi gli studenti e le studentesse, e da delle politiche che vanno verso quella direzione. E la militarizzazione che abbiamo nella nostra città non è in quella.